Ciao a tutti, siamo qui nell'area di sossa di Antrodoco, un paese del Lazio a 500-520 metri di altitudine e adesso vi porteremo a visitare questo paese tra le montagne. Antrodoco, che letteralmente significa tra i monti, è famoso perché qui si è svolta la prima battaglia del Risorgimento italiano, infatti arrivando nel centro storico trovate subito un cartello in cui vi è proprio descritta tutta la prima battaglia del Risorgimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.